e tu come puoi partecipare puoi seguire i webinar ci sono i ghiacciai che scompaiono di quanto è aumentata la temperatura ma è aumentata di oltre un grado e mezzo in 100 anni quindi già ben di più di quella che è la media globale ci sono specie che compaiono nomini legati alla meridionalizzazione cioè l'ingresso di specie più calde che comunque sono presenti in ogni caso nel nostro mediterraneo ma che magari possono arrivare fino alle nostre latitudini dove prima non non c'era c'è il mare che si alza il clima ve lo ricordo si calcola su almeno tre decadi un po di più tutto tutto ciò che sotto tre decadi non è statisticamente sufficiente per poter entrare conclusioni poi su un andamento climatico ci sono problemi per la terra l'agricoltura è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici in quanto ovviamente la produzione di cibo è direttamente dipendente dalle condizioni climatiche c'è un artista da scoprire la reazione per queste foto là io vedo che le persone sono touché puoi leggere gli articoli degli esperti ma tu puoi anche creare contenuti e condividerli è facilissimo segui le istruzioni nel sito cambiaventi.museobora.org puoi caricare foto di un clima passato puoi caricare testi lunghi o brevi puoi anche fare disegni o collage così il libro prende forma un libro scritto anche da te adesso tocca a te partecipa anche tu a cambiaventi l'emergenza climatica e noi grazie a tutti